buongiorno ragazzi allora sedetevi che facciamo la pelle la ragazza abbiamo i ragazzi in classe ma tu che ci fai qui ehi ciao ma a te ti piacciono le macchine la bmw le mercedes ma ti puoi gestire anche larga tipo hai presente quella roba di come si dice ma non puoi vestiti stretta tipo quei vestiti attilate quella roba la cosa stai giocando a chi scrivi alle amiche dei quattro pigiama party di domani sera ragazzi cosa stai facendo sicuramente noi stiamo parlando di trucchi gioielli unghie vabbè hai già capito robe da donne stiamo parlando di calcio sicuramente non ti interessa e poi tu che ne sai è calcio prof poi mi prendono tutti di mira perché sono l'unica ragazza pensano che devo essere come loro o perché devo fare certe determinate cose non esagerare sono ragazzi comunque non hai mai pensato di iscriverti a moda potevi non iscriverti a metà cronica poi modo è pieno di ragazze ti troveresti sicuramente meglio ma perché sei così sempre silenziosa non parli mai classe ma che sbagliato classe cioè non puoi fare almeno un sorriso mamma mia a cdc no guarda che è i sì di sì ma cosa vuoi sapere che per i maschi mica per le femmine il rock bambole peluche trucchi scarpe rosa vestiti rosa ti va di stare insieme alle ragazze invece che con questo branco di maschi ma si ok ragazzi ho detto che amo oh ma quindi no non sono emo no non sono lesbica no non cerco attenzione mi sono stancata io voglio lavorare con le macchine perché mi piace questo indirizzo voglio fare meccatronica uno solo perché conosci una ragazza non vuol dire che dobbiamo essere tutti uguali a quella due solo perché siete tutti maschi non vuol dire che io mi devo vestire come tutti voi tre io ho i miei gusti voglio sceglierli da sola e sinceramente voglio fare quello che mi piace per conto mio e 4 lo sapevo voi maschi siete tutti uguali ma questo è uno stereotipo appunto una persona è molto più di uno stereotipo fa la differenza ma questo è uno stereotipo fa la differenza ma questo è uno stereotipo appunto viaggio ma questo è uno stereotipo fa la differenza ma questo è uno stereotipo e sincero è un'altro anch'io ma questo è uno stereotipo fa mi piace per conto del lavoro